Conversano, giovedì 27 ottobre, nella sede dell'Associazione Con Loro, la ONUS conversanese che si occupa da anni di persone disabili e delle loro legittime istanze, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione organizzata in collaborazione tra l'Associazione Con Loro e l'Associazione Spina Bifita Regione Puglia sul tema dell'accessibilità al mare. L'incontro con i media si è reso necessario in seguito alle osservazioni presentate dalle associazioni al piano comunale delle coste, posto in essere dal comune di Polignano a mare e in conseguenza delle continue discriminanti che si perpetuano ai danni delle persone con disabilità che decidono di recarsi al mare dove meglio preferiscono. I due presidenti delle associazioni Ciccio Magistà e Chetti Lepore, infatti, nei loro interventi hanno posto l'accento sulla necessità che in particolare i comuni di Mola di Bari, Monopoli e la stessa Polignano a mare si attivano sulla tematica coinvolgendo magari le associazioni d'ambito per raccogliere dai diretti interessati informazioni e consigli sul tema, al fine di ottenere risultati mirati nel rispetto al diritto delle persone con disabilità che allo stato dei fatti trovano sulla loro strada, in questo caso quella che dovrebbe portare al mare, massi e sbarre nel 99% dei casi scientemente posizionati che ne impediscono l'accesso. Tutto ciò non può continuare, è stato detto oggi in conferenza stampa, argomentando nel merito con riferimento all'ampio e composto dittato normativo che la tematica mette a disposizione dei danneggiati. Un appello alla soluzione del problema, infine, è stato rivolto al presidente della regione, Michele Emiliano, perché intervenga sulla questione. Noi abbiamo colto questa opportunità, è iniziato il processo partecipativo di osservazione a piano delle coste comunali del comune di Polignano e avendo noi già nel giugno del 2015 presentato delle richieste e delle stanze ai comuni di Mola di Bari, Monopoli e Polignano a mare, essendo state pressa poco disattese le nostre richieste perché nessuno aveva dato seguito a quello che noi chiedevamo a giugno 2015, abbiamo colto l'occasione del processo partecipativo per il piano delle coste del comune di Polignano per reiterare quanto avevamo già chiesto nel 2015, ovvero l'eliminazione delle occlusioni dei percorsi pedonali sul tratto di coste che interessa in particolar modo Polignano, tutti i percorsi pedonali sono stati chiusi con dei grossi massi, la mancanza di servizi igienici, di parcheggi ma anche di punti pubblici non soltanto delle spiagge private che sappiamo essere obbligate a doverlo fare se no non possono avere le autorizzazioni, ma ci sarebbe piaciuto e ci piacerebbe poter accedere al mare, alle spiagge pubbliche con gli accorgimenti relativi all'accessibilità. Questo lo si può fare, lo si può fare confrontandoci in un tavolo di concertazione che noi abbiamo chiamato Comitato perché questo strumento è già stato nelle linee guida nazionali sul turismo accessibile e viene suggerito alle pubbliche amministrazioni, questo è uno strumento molto snello, molto pratico che fa partecipare le organizzazioni di volontariato, le cooperative, le associazioni e le persone con disabilità a questo strumento di programmazione partecipata. Noi siamo a disposizione delle istituzioni, vorremmo che le istituzioni ci ascoltassero perché da parte nostra c'è molto spirito collaborativo e propositivo per far sì che le politiche per la disabilità riescano a centrare gli obiettivi che tutti ci auguriamo vengano raggiunti. Innanzitutto mi vorrei presentare, sono Kettilepore, vicepresidente di Asbi Puglia, associazione spinabifida Puglia, nonché componente del consiglio direttivo di Asbitalia. La nostra associazione è un'associazione appunto che si è creata circa 20 anni fa per volere di un gruppo di genitori di ragazzi affetti da spinabifida. Siamo presenti appunto nel territorio pugliese e siamo molto attenti sia a fornire una serie di informazioni alle famiglie e anche a sostenerle nel loro percorso diciamo di vita sulla disabilità dei propri cari e soprattutto svolgiamo un ruolo attivo affinché il disabile, nonché le sue famiglie, possono essere soggetti diciamo culturalmente diciamo attivi proprio nella vita di tutti i giorni. Il soggetto dell'incontro di oggi appunto verte sulla riorganizzazione del piano delle coste del comune di Polignano. Questa è stata un'occasione per noi importante per evidenziare che il turismo accessibile in realtà non dovrebbe neanche esistere. Noi vogliamo parlare di turismo universale, un turismo che possa diciamo essere competitivo in un'epoca in cui arrivano turisti da tutto il mondo grazie diciamo alle prenotazioni online, grazie ad internet e per i nostri territori del comune di Polignano, Monopoli ma anche di Conversano, di Mola di Bari potrebbero cogliere l'opportunità di rivedere un po' l'offerta turistica, renderla accessibile a tutti e quindi che possa essere un volano anche sotto l'aspetto economico. Per quanto riguarda le osservazioni al piano delle coste chiaramente noi chiediamo che per esempio nella stesura del bando per l'assegnazione delle aree vengano inseriti tutta una serie di requisiti che appunto possano favorire non solo diciamo delle spiagge accessibili ma per esempio che possano sviluppare anche servizi adeguati sotto l'aspetto igienico per quanto riguarda dei parcheggi per quanto riguarda i ristoranti nonché anche gli sport acquatici per i nostri ragazzi affinché insomma possa essere veramente estate per tutti.